allora ragazzi nuovo problema sul mio camper ho notato che la pompa dell'acqua mi perde allora l'ho smontata e ho scoperto che il problema è qui perché parola questa membrana che blocca il caricamento della pompa è bucata c'è un piccolo buchino che fa passare acqua e mi fa gocciolare la pompa io adesso come posso fare ad aggiustare questa pompa non sapendo dove trovare questa membrana e fu così che mi venne un'idea un preservativo andiamo a vedere se funziona allora ho smontato la membrana qui ho il mio preservativo l'idea è quella pof mettiamo la membrana del preservativo e li mettiamo la pompa al suo posto adesso togliamo il preservativo e vediamo se frongia ok abbiamo togliato il preservativo adesso andiamo a mettere il coperchio secondo me non perderà più ok andiamo alla rimontare vediamo se perde ma secondo me col ca che perde adesso abbiamo montato la pompa la accendiamo vediamo se perde col ca che perde adesso che abbiamo risolto il problema con un condom è non che però la però ed la